Ma quindi una landing page e un sito web sono la stessa cosa? Ecco questa è stata sempre una delle domande più chieste dai miei clienti nel momento in cui magari mi trovavo a proporgli un servizio e loro magari mi contattavano banalmente per un sito web in passato e io magari mettevo in ballo anche una landing page spiegando le funzionalità però mi sono reso conto che non è chiara questa distinzione tra le due allora volevo fare un video molto semplice per aiutarti ad orientarti tra questi due strumenti landing page e sito web quando utilizzare uno, quando utilizzare l'altro se magari parti da zero tu decidi di avere un tuo spazio di proprietà e quindi te lo raccomando tra l'altro quindi vuoi avere una sorta di sito web o qualcosa che lo rappresenti uno spazio tuo dove mandare le persone, dove essere visibile e magari ti trovi ecco a chiedere preventivi per sito web ma per landing page ecco magari non hai bisogno di un sito web strutturato puoi aver bisogno semplicemente di una landing page e questo chiaramente dipende il tutto dalla qualità del prodotto però di base una landing anche se è ottimizzata costa di meno a parità di livello questo è un pochino il tema perché solitamente sito web è molto più strutturato quindi una piccola premessa se non mi conosci chi sono io? sono Igor Papo sono un web marketer aiuto le aziende a crescere grazie al digitale qui su questo canale youtube do alcuni consigli utili spunti di riflessione racconto aneddoti racconto delle mie esperienze casi studio per aiutare te imprenditore o libero professionista ecco ad avere più consapevolezza no? e prendere in mano il tuo marketing essere tu il primo marketer e poi decidere se fare operativamente tu le cose se delegare però con più consapevolezza prenderai delle decisioni avendo un po' il quadro d'insieme ok? quindi detto questo andiamo ad analizzare i due diversi strumenti sito web sito web teoricamente lo conosciamo tutti no? quindi sito web è uno spazio di tua proprietà sul web solitamente con un dominio no? con un indirizzo è sviluppato solitamente su più livelli nel senso che solitamente ha al suo interno se è un sito web vetrino comunque ha diverse sezioni su diversi livelli con una comunicazione che solitamente è più a rappresentanza dell'azienda che è del prodotto vero e proprio o dell'insieme di servizi che tu vendi se è strutturato diciamo bene ha anche dei forum di contatto dei diciamo dei funnel interni quindi se diciamo il design di un sito web come lo chiamo io un website funnel quindi un vero e proprio percorso che tu crei è strutturato bene hai anche una guida per generare direttamente i contatti dal tuo sito web ok? strutturando diversi livelli quindi diciamo ci sono alcuni elementi ricorrenti quindi sono un menu strutturato su più livelli una home abbastanza generica dei forum di contatto ci può essere magari una live chat se si tratta chiaramente di un e-commerce avrai anche un catalogo configurato avrai chiaramente tutto il discorso di checkout sistemi di pagamento integrati eccetera eccetera questo è un pochino il quadro una landing page invece è una landing page piccola parentesi un sito web al suo interno può avere appunto più pagine che sono delle landing page delle pagine di atterraggio che però sono messe in un sistema diciamo ad albero sotto vari livelli una landing page invece è una pagina singola una pagina di atterraggio anche qui è una proprietà che si trova diciamo online con un dominio un indirizzo quindi il classico url sto cercando di andare un pochino più sul concreto e solitamente viene sviluppato appunto su una singola pagina e solitamente non ha un menu o magari può avere un menu comunque di ancoraggio non un menu su più livelli che portano a pagine diverse ma semplicemente un menu che ancora delle parti singole della landing page e quindi magari non so tu hai la parte dove parli del tuo team a metà della pagina quindi inserisci un ancoraggio che ti riporta a metà della pagina però comunque solitamente è un rotolone un'unica pagina vogliamo forzare il concetto quindi dire è una sorta di sito web ad una pagina sola ok? anche se non è proprio corretto la landing page nasce con un obiettivo specifico nasce con l'obiettivo di intercettare quelle persone che stanno cercando magari un certo prodotto o servizio oppure stanno cercando delle risposte oppure stanno cercando di risolvere un certo problema allora tu praticamente crei l'atterraggio perfetto per queste persone su uno spazio web che è una landing page che gli guiderà e gli aiuterà a rispondere diciamo a queste domande o comunque gli darà un modo di contattare te o comunque un professionista per risolvere un loro problema quindi è una pagina unica però il suo copy quindi i testi che sono scritti all'interno della pagina la sua struttura sono progettati in modo tale per guidare l'utente che atterra su quella pagina e intanto attirare la sua attenzione informarlo creare una sorta di desiderio e fiducia per contattarti per andare oltre a diciamo una semplice navigazione della pagina e per poi farti agire quindi per far sì che l'utente agisca faccia l'acquisto una pagina di vendita oppure lasci un contatto o comunque o faccia una chiamata queste sono le varie possibilità di contatto che tu puoi mettere a disposizione e anche il sito web ti dà la possibilità di fare tutte queste cose però la differenza principale qual è? che se tu hai un prodotto o un servizio che intercetta un target specifico ed è uno solo e risponde a un bisogno specifico che riesce a raccogliere un gruppo di persone allora probabilmente puoi utilizzare solo una landing page e non hai bisogno di avere un sito web strutturato su 50 livelli perché molto spesso questo anzi diventa una fonte di distrazione questa è la mia esperienza se tu hai invece dei prodotti o comunque dei micro business che parlano a target diversi che vanno a rispondere a domande, problemi ed esigenze diverse allora a questo punto probabilmente tu hai bisogno di più landing page ogni landing page andrà a parlare con un target specifico perché questo è importante? perché affinché una landing page sia efficace deve essere studiata su un target specifico quindi se tu hai più target a cui parli e al di là del discorso target risolvi problemi diversi allora probabilmente ti servirà un sito web è dove con il sito web tu vai a parlare di diversi servizi faccio per dire se tu sei un fotografo un fotografo dice ok io di base il mio prodotto è sempre quello però tu magari puoi parlare a target diversi magari puoi parlare a persone che vogliono fare servizi professionali in ufficio a persone che vogliono sposarsi perché magari fai anche matrimoni magari puoi fare fotografie di tipologia newborn io per esempio ho fatto un sito web per un mio cliente e in realtà è un amico più che cliente e che cos'è che gli ho fatto? gli ho fatto un sito web dove ha diverse landing page e ogni landing page parla a un target specifico e va a valorizzare i punti di forza diversi ma perché lui aveva proprio un portafoglio di prodotti che parlava e andava a risolvere problemi diversi ecco se tu invece sei un fotografo faccio per dire che fa solo servizi fotografici per aziende per fare le foto al team per fare le foto d'ufficio insomma le postazioni eccetera eccetera probabilmente ti basterà soltanto una landing page perché la tua comunicazione sarà focalizzata lì ok? questa è la macro distinzione una landing page ripeto affinché sia efficace deve essere molto specifica e non devono essere buttate di cose molto generiche ecco quindi se hai un sito web ti puoi permettere magari di essere un pochino più generico nella tua home, nel tuo atterraggio principale anche se non troppo perché anche lì devi fare una comunicazione di posizionamento comunque della tua azienda ecco nella landing perché ti puoi permettere di farlo? perché poi magari avrai delle landing page interne al sito che ti consentiranno di specificare meglio e di andare a parlare meglio al pubblico target nel caso della landing page invece deve essere estremamente specifico ora io ho realizzato dei video sia per quanto riguarda una landing page efficace diversi video quindi ti inserirò questi video anche qui nei commenti quindi potrai andare a vederli sia per quanto riguarda poi il sito web efficace il website funnel quindi se vuoi approfondire farti un'idea un pochino più strutturata di delle caratteristiche sia del sito web che di una landing page di come devono essere strutturate fatte quali caratteristiche devono avere ecco ti lascerò questi riferimenti detto questo spero che questo video ti sia piaciuto come al solito ti invito ad iscriverti al podcast chiedita da marketer se ti piacciono questi contenuti in forma audio altrimenti ti invito a iscriverti su questo canale il canale youtube se hai qualche domanda specifica su questo aspetto lasciala nei commenti io ti risponderò sicuramente vedrò magari riuscirò anche a fare un video specifico che risponde direttamente alla tua domanda e magari a questo punto metteremo a disposizione di tutti quanti magari un tuo dubbio che non hai detto che sia solo il tuo detto questo ti saluto e ci vediamo alla prossima dagli tutta